C'erano molti fedeli sabato pomeriggio 24 settembre nella chiesa di San Domenico in attesa di poter ammirare da vicino le reliquie e gli oggetti appartenuti a San Pio da Pietralcina. Ci sono una sciarpa e un guanto e persino delle lettere del santo tra i doni ricevuti dalla parrocchia. Durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 18 e 30 sono stati riposti vicino all'altare per la presentazione all'intera comunità parrocchiale. Sono presentate questa sera le reliquie e alcuni oggetti appartenenti a Padre Pio che ha donato ad un nisseno Gaetano Santagati scomparso a gennaio. I suoi collaboratori, i suoi amici hanno pensato di fare questo dono prezioso alla città di Caltanissetta, alla diocesi di Caltanissetta e di consegnarli alla nostra parrocchia. Dunque durante questa celebrazione della Messa viviamo questo momento di grande gioia, di grande festa, un'esperienza che ci aiuta nel nostro cammino di fede, di speranza e d'amore, riscoprendo l'interessante e bella figura di Padre Pio ma anche la nostra chiamata alla comunione con il Signore. In tante realtà del nostro territorio, di tutta Italia e di tutto il mondo ci sono dei gruppi di preghiera, ci sono delle associazioni, delle realtà che richiamano la figura di Padre Pio e però ecco con Padre Pio insieme a Padre Pio fanno questo cammino di incontro al Signore e di sequela del Signore risorto.